E' stato ricoverato all'ospedale di Sant'Urso in codice giallo per traumi riportati il ciclista di 24 anni investito nel tardo pomeriggio di mercoledì a Zanè. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.30, una donna 63enne di Schio alla guida di una Fiat 500 stava percorrendo via Manzoni diretta a Schio, giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale all'altezza della filiale della BCC Banche Venete Riunite per causa di corso d'accertamento ha urtato il giovane residente a Zuliano che in sella alla bici aveva impegnato la strada, forse per attraversare. Il 24enne è stato sbalzato in avanti ed è rovinato sull'asfalto, in brevissimo tempo è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa. I rilievi dell'incidente e la regolazione del traffico sono stati effettuati dalla polizia locale nord-est Vicentino. I rilievi dell'attraversamento 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 I rilievi dell'attraversamento